Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco Mimmo, investigatore privato da più di 12 anni e titolare di Vox Investigazioni e in questo video che reputo veramente interessante andremo a capire e vedere come si arresta una persona, quindi come si esegue un arresto. Prima di farlo vi ricordo però come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nuovi video e di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio come si esegue un arresto. Buongiorno amici del canale. Oggi parliamo di un argomento che spesso vediamo nei film d'azione, ma come funziona nella realtà? Come si arresta una persona? L'arresto, per legge, è la procedura che consente di privare della libertà personale un soggetto sorpreso a commettere un reato. Prima di tutto bisogna chiarire che l'arresto non significa sempre tirare fuori le manette. La legge specifica che questi strumenti di contenimento si usano solo quando sono strettamente necessari. Quindi ricordate, la forza è l'ultima risorsa. Quindi per l'arresto di una persona come e quando si può procedere? Dovete sapere che si può arrestare una persona solo se 1 c'è flagranza di reato, nel senso che il colpevole è colto proprio nell'atto di compiere il reato, oppure subito dopo, magari perché in seguito si parla in questi casi di quasi flagranza. 2 è commesso un reato particolarmente grave. Non si può quindi procedere all'arresto se la polizia scopre il colpevole il giorno dopo, né seppur in flagranza di reato si tratta di un crimine di poco conto. Ad esempio non si può arrestare una persona per schiamazzi notturni oppure per pascolo abusivo. La legge prevede due tipi di arresto, obbligatorio e facoltativo. Nel primo caso la polizia non ha scelta. Se qualcuno viene sorpreso in flagranza di un reato grave, la polizia deve intervenire. Nel secondo, invece, può decidere se eseguire l'arresto o meno in base alla pericolosità del responsabile. Analizziamo nel dettaglio allora quando l'arresto è obbligatorio. Per legge, l'arresto è obbligatorio e non lascia dunque margine di discrezionalità alla polizia quando il colpevole è sorpreso in flagranza di un reato particolarmente grave. Per la precisione, va sempre arrestato chiunque è colto in flagranza di un diritto doloso, anche solo tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni. Inoltre, l'arresto è sempre obbligatorio, a prescindere dalla pena, per una serie di delitti che la legge ritiene particolarmente gravi, come ad esempio il furto in abitazione o il furto con scippo, la rapina, l'estorsione e lo spaccio di droga. Quando l'arresto è obbligatorio, ogni persona è autorizzata a procedere alla cattura, purché si tratti di delitti perseguibili d'ufficio. Ad esempio, chi assiste ad una rapina può inseguire e bloccare il rapinatore. Quando è facoltativo, invece? L'arresto è invece facoltativo, nel senso che la polizia può procedervi solo se ritiene il fatto particolarmente grave o il suo autore particolarmente pericoloso, quando il colpevole è colto in flagranza di... Alt ragazzi! Prima di andare avanti con il video, vi ricordo che se siete appassionati di investigazioni, potete andare sul nostro sito voxinvestigazioni.it, alla sezione shop, dove troverete una marea di corsi per agenti investigativi, per addettori bonifiche ambientali, insomma tutto quello che riguarda le investigazioni, e cimentarvi così in un corso completo che vi permetterà veramente di addentrarvi nel mondo delle investigazioni private. Scusate l'interruzione e riprendiamo il video. Un delitto doloso, anche solo tentato, per la quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a tre anni. Un delitto colposo per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo cinque anni. Inoltre, a prescindere dalla pena, la polizia può procedere ad arresto facoltativo in presenza di alcuni specifici reati, come ad esempio in caso di furto, di violazione di domicilio, di appropriazione in debita e di truffa. Come detto in apertura, l'arresto non implica necessariamente l'uso delle manette. La legge stabilisce che per l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio solo quando bisogna accompagnare da un luogo ad un altro soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale. La condizione di persona arrestata, fermata o detenuta non è però sufficiente. La legge dice che la polizia può usare le manette solo quando lo richiedono la pericolosità del soggetto, il pericolo di fuga o circostanze ambientali che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi, l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. In pratica, la polizia può usare le manette solo se il soggetto arrestato può creare problemi, magari perché particolarmente aggressivo oppure perché ha tentato la fuga. Ugualmente, l'uso delle manette è legale se c'è la possibilità concreta che la traduzione, cioè lo spostamento da un posto ad un altro, possa essere ostacolata da altre persone. Si pensi ai familiari dell'arrestato che cercano di intromettersi per favorirne la fuga. Peraltro che l'arresto non si esegua necessariamente con le manette è reso evidente nel caso di arresto obbligatorio eseguito dal cittadino, il quale è sicuramente sprovvisto di manette, ma può ugualmente bloccare la persona accolta in flagranza di reato e consegnarla poi alla polizia. Ma come si arresta una persona? In linea di massima, se il soggetto non è pericoloso e non c'è evidente pericolo di fuga, l'arresto viene eseguito dal poliziotto o carabiniere semplicemente intimando al colpevole di seguirlo in caserma. Se invece il reo è un po' turbolento, lo si può tenere per le braccia e scortarlo fino all'auto oppure al luogo in cui dovrà poi essere identificato. In pratica, quindi, l'arresto non presuppone l'uso delle manette se non quando è strettamente necessario per evitare fughe o aggressioni ai danni degli agenti. Si pensi alla persona in evidente stato di ebrezza che brandisce una bottiglia oppure all'individuo che è stato sorpreso con una pistola in tasca. Anche se non ammanettato, la persona colta in flagranza nel commettere un reato è comunque considerato in stato di arresto in quanto privato della sua libertà personale. Direttive per l'ammanettamento di sospetti. Ci sono regole precise per l'ammanettamento e ora le vedremo assieme. 1. Non ammanettare mai un sospetto ad un oggetto fisso. 2. La gente non deve ammanettare il sospetto mai a se stesso. 3. Ammanettare il sospetto con le braccia dietro la schiena, i palmi delle mani rivolti all'esterno. 4. In caso sia richiesto un ammanettamento veloce di più soggetti, usare delle robuste fascette in plastica autoserranti. E per il trasporto, invece, diventa un po' più complicato. Quando possibile, non trasportare soggetti giovani con altri più anziani. Se possibile, non trasportare mai uomini e donne nello stesso mezzo. Impartire i comandi da un posto coperto, se possibile, o altrimenti dalla parte disarmata del sospetto e in posizione inginocchiata. Non trasportare soggetti particolarmente violenti di fronte ad altri nello stesso mezzo. Non trasportare più di tre soggetti per una volta su un'automobile dotata di schermatura tra posti anteriori e posteriori. Non superare mai il peso massimo trasportabile consentito per il mezzo in uso. Non trasportare più di due fermati in un veicolo senza schermatura e porre un agente nel sedile posteriore. I fermati devono sistemarsi alla sinistra dell'agente e l'arma di quest'ultimo deve stare sulla destra, quindi il più lontano possibile. Un solo agente non può mai trasportare un fermato in un veicolo non schermato. Dentro ad un mezzo che lo permette, invece, mai stare seduto uno di fronte all'altro. Un agente fuori servizio che opera un arresto o fermo non può trasportare il fermato mai sulla propria auto privata. Non trasportare mai fermati e le loro vittime nello stesso mezzo, ovviamente. Perquisire sempre un fermato anche se consegnato da un altro agente che dice di averlo già perquisito. Rimuovere tutto ciò che può risultare pericoloso dagli indumenti dal fermato dopo l'ammanettamento. Se durante una perquisizione personale si scopre un'arma che non può essere agevolmente rimossa, corre il fermato in posizione di svantaggio, rimuovere l'indumento e poi l'arma, quindi continuare con la perquisizione. Allora ragazzi, era come pensavate e ve le immaginavate proprio così le tecniche di arresto e di trasporto? La realtà dell'arresto è spesso diversa dalle scene adrenaliniche dei film. Spero che questo video per me oltre interessante vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando mettete un like, condividetelo con i vostri amici e fatecelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio e come sempre vi aspetto nel prossimo video.